Allora, ditemi la verità, siete qua perché non avete ancora finito le uova di Pasqua? Siete nel video giusto. Oppure, avete finito le uova di Pasqua e allo stesso tempo però avete comunque voglia di proseguire il vostro percorso cioccolatoso fino a fine aprile? Vi trovate nella mia stessa situazione. Io in realtà le uova di Pasqua le ho finite ancora al giorno di Pasqua. Però ho detto, chi se ne frega, io voglio proporre qualcosa di cioccolatoso per chi appunto non sa come consumare le uova perché si è stufato a mangiarle così, beati voi, oppure per chi ama il cioccolato e quindi vuole, come ho già detto, insomma, mangiarsene ancora. Il cioccolato fa bene. In più, mangiando cioccolato si sviluppa l'ormone del buon umore e credo che in questo periodo qua ne abbiamo tutti bisogno. Sono tre idee quelle che vi propongo oggi, tre idee facili, veloci e molto molto buone. La prima idea è veramente facilissima, pochi ingredienti, tutti molto facili da reperire. Facciamo una panna cotta che però non è fatta con la panna ma con il latte. Tranquilli perché non viene una ciofeca, anzi, sarà un modo per avere una panna cotta più leggera. Però visto che mettiamo dentro il cioccolato fondente, avremo comunque un dolce abbastanza corposo, capito? In abbinamento, delle fragole sopra secondo me sono spaziali. Partiamo subito e velocemente anche. Sempre acqua fredda è per mettere in ammollo la gelatina. Aggiungo un goccio d'acqua fredda e stempero. Adesso che il latte sta per sfiorare il bollore, aggiungo la miscela di maizena e acqua. Questo servirà per dare la stessa consistenza, no? E la panna. La densità la percepisco, non so se si nota in camera. Comunque si è leggermente addensato. Adesso sta proprio quasi per bollire. Quindi aggiungiamo la gelatina, spegniamo la fiamma adesso che si è sciolta e aggiungiamo il cioccolato. Bene, il cioccolato si è completamente sciolto e quindi adesso stampini o bicchierini. Io preferisco quasi bicchierini, anche perché così almeno non dobbiamo staccarle. Ne verranno circa 6-7 in base alle vostre, insomma, a quanta ne mettete nei bicchieri. Allora, adesso lasciatemele mettere in frigo per circa 3-4 ore e nel frattempo noi ci dedichiamo al topping con le fragole, perché cioccolato e fragole è una meraviglia. Quattro fette e poi le quattro fette a metà ancora. Mettiamole in padella, fiamma abbastanza alta, medio alta. Allora, le fragole sono consistenti ma morbide, non si sono sciolte, quindi questo è il momento giusto per bloccare la cottura. Spengo, se notate che nella vostra padella, venite qua che vi faccio vedere, c'è tanto sciroppo, molto più di questo. Allora io vi consiglio di fare un passaggio, ossia prendere un collino, una ciotola, cominciare a filtrare le fragole. In questo caso penso che non mi serve fare una cosa del genere, perché ho visto che non hanno rilasciato troppo liquido ed è abbastanza denso già lo sciroppo che si è formato. Ma se invece dovesse risultare molto di più, insomma, di questo qua e soprattutto più liquido, vi consiglierei di scolare le fragole in modo tale che, insomma, non vadano oltre la cottura. E lo sciroppo lo rimettete in padella e lo fate addensare, lo fate un pochino restringere, in modo tale che diventi denso così. Quindi adesso cosa facciamo con queste fragole? Le lasciamo raffreddare, magari prima a temperatura ambiente, poi in frigorifero e poi serviranno appunto per fare la decorazione alla nostra panna cotta. Seconda idea, come ho detto su Instagram, no, perché provo un po' ad internazionalizzarmi in modo ignorante. Sarà una bella torta rustica, ovviamente cioccolatosa. Dentro abbiamo farina integrale, non c'è il burro, c'è olio, c'è un zucchero di canna. Sarà quella torta perfetta per chi non ama il cibo sano, comunque l'integrale, tutte queste cose, però vorrebbe assumerlo. È perfetta anche per i bambini, ad esempio, perché proprio non si accorgono. Qua nel frattempo ho sciolto il cioccolato fondente, adesso aggiungo l'olio di semi. Mescoliamo e teniamo da parte. Montiamo le uova con lo zucchero. Uova, tre grandi oppure come nel mio caso tre uova medie e una piccola, perché secondo me tre uova medie sono un po' poche. Non potete neanche sostituire l'uovo con un altro ingrediente perché l'uovo ha una certa struttura ovviamente. Se mettete il latte non è la stessa cosa. Quindi proprio altrimenti potreste fare tre uova medie più mezza uova media. Quindi prendete un uovo, lo sbattete e ne usate solamente metà. Cosa è andato? Al guscio dell'uovo. E boh, procedo. Le ho montate per circa dieci minuti per ottenere sempre un composto bello morbido e spumoso. Adesso aggiungiamo tutti gli altri ingredienti e le polveri, meglio setacciarle per evitare che il composto si smonti. Cioccolato e olio che nel frattempo si sono intiepiditi e cominciamo a mescolare dal basso verso l'alto. Uniamo due cucchiai di acqua calda che daranno morbidezza a questa torta. Va bene prenderli direttamente dal bagnomaria. Adesso cominciamo a mescolare le polveri, lievito per dolci, farina integrale e cacao. Dopo naturalmente vedete tutte queste crusche che rimangono intrappolate, le aggiungiamo perché altrimenti che senso ha mettere la farina integrale. Foderiamo la torta, siccome è rustica, per una volta io, guardate, non mi interessa neanche fare una torta bella ma che sia buona sì. Quindi me ne frego nella parte estetica, prendo carta forno, la bagno e la strizzo così è più modellabile e fodero uno stampo rettangolare. A me piace farla rettangolare questa qua, lunghezza circa 21 cm, larghezza 18 cm, quindi proprio cercate una teglia di queste misure. Se è un filino più grande non è un problema, l'importante è che sia piccola per avere una bella torta alta. Stipuliamo bene anche negli angoli, direi molto bene. Poi qua un gran casino, quindi magari ma al solito, però il profumo è super buono, nonostante ci siano questi ingredienti più sani. Provatela ragazzi. 30 minuti, 180 gradi, modalità statica. Nella parte medio-bassa del forno. Visto che è una torta comunque montata, non sbattete mai la teglia, sempre spianarla con un cucchiaio, guai a voi se lo fate. Si è formata una crosticina magnifica. Siamo arrivati alla terza idea, sicuramente un'idea più così, dove c'è bisogno di un po' più di pazienza perché ho lievitato, però tranquilli perché comunque non è né difficile né passaggi troppo complicati. Se li seguite ovviamente il risultato sarà veramente strepitoso. È un pan brioche cioccolatoso, anche con una piccola nota di cacao, soffice e morbidissimo, perfetto per la colazione e non è neanche troppo pesante. Capirete dopo il perché, gli ingredienti sono pochi e il burro non è neanche tanto. Io utilizzo la planetaria, tranquilli, che se volete potete anche utilizzare le vostre mani. È solo perché ce l'ho, perché se no porrete sempre qua in ferie e non la uso mai. Faccio nella farina un buco, lievito di birra, un cucchiaino di zucchero, magari con il mestolo di legno, mescolate per farlo sciogliere. Acqua a temperatura ambiente. Lo aggiungo così e lascio riposare in questo modo senza mescolare niente. Il lievito per 15 minuti avrà più forza anche per far lievitare il nostro pane. Vedete che si è formata una bella schiumetta. Adesso nel frattempo sciogliamo il burro, anche a microonde, senza nessun problema. Uniamo il latte, così anche questo si inchiepidisce. Cominciamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Cacao amaro e caffè macinato, lo stesso che si utilizza per fare il caffè con la moca. Ci starà benissimo, provatelo perché è strepitoso. Il zucchero, l'uovo, anzi, si dai, uniamo tutto. L'uovo, cominciamo a farlo andare. Unisco anche il latte e il burro. Continuiamo a far impastare e aggiungo anche il sale, sempre alla fine. Buono, l'impasto è andato quasi 10 minuti. Ha proprio una bella consistenza. Adesso facciamo una bella pallottola. Mettiamo nella ciotola. Mettiamo a lievitare in un luogo favorevole. Quindi io direi, privo di correnti d'aria, il forno sarà perfetto. Io l'ho preriscaldato prima a 50 gradi. Adesso lo spengo e lo lascio così per circa due ore, o comunque fino a quando il volume si raddoppia. La pasta lievitata. E una cosa importante, mi sono dimenticato di riprenderlo prima. Una volta che avete formato l'impasto e prima di metterlo a lievitare, prendete 10 grammi di burro. Li massaggiate tra le mani e quindi ungete tra virgolette le vostre mani. E poi proprio massaggiate l'impasto in modo tale che durante la lievitazione non si formi proprio una crosta in superficie. Quindi adesso stendo un bel rettangolo con l'aiuto di un po' di farina. E la cosa importante è che il rettangolo abbia la stessa misura, che poi è più un quadrato questo qua in realtà. Aspettate che lo rendo un po' più rettangolo, dai. Abbia la stessa misura del vostro stampo. Io utilizzo uno stampo da plum cake, in questo caso delle dimensioni di circa 30 centimetri di lunghezza. Prendo burro e acqua. Faccio scegliere il burro e anche l'acqua insieme. Andiamo di cioccolato. Ne mettiamo un bel po'. Così basta. Buono. Golosi eh, bisogna essere. Anzi, io quasi quasi. Mi metto ancora un po'. Buono. Ovviamente a metà. Teglia imburata con carta forno. Distribuisco queste rose in questo modo. E ricordatevi che la parte del giro qua deve essere messa all'interno. E mica da questa, mi raccomando. Così. Vedrete dopo con la lievitazione che bel effetto si crea. Pennello con un po' di emulsione di acqua e burro che mi avanza, per non farle seccare. Pellicola morbida, quindi non troppo tesa. E lasciamo lievitare ancora un'ora, un'ora e mezza. Comunque fino al raddoppiamento del volume. Sempre nel forno spento. Ci sono due teglie. Perché? Perché mi sono reso conto che quello stampo da plumpecchi che avevo prima era troppo largo. Quindi il risultato non veniva come volevo io. Cioè nel senso, invece che gonfiarsi il pambrioche in alto, si allargava e basta. Ho detto no, no, qua non ci siamo proprio. Ho trovato questo stampo più piccolo che ho a casa. E ho messo sei rosaline qua perché otto non ci stavano. E due le ho messe qua per fare tipo delle girelle. Normalmente per questo pambrioche uso uno stampo un pochino più lungo, ma stretto allo stesso modo. Solo che quando cerchi una cosa non la trovi e non sono riuscito a trovarlo. Prendo l'albume e lo spennello sulla superficie in modo tale da renderla lucida. Pianino, siate delicati. 180 gradi, modalità statica per circa 25-30 minuti. Sotto ho un pentolino di acqua per creare un ambiente umido e dare più morbidezza anche proprio alla pasta. Abbiamo finito. Credo che abbiamo lavorato abbastanza. E allo stesso tempo ce l'abbiamo fatta a portare a casa dei piatti fantastici. Cosa abbiamo preparato oggi? Una panna cotta. Sembrerà di mangiare praticamente una cioccolata calda, fredda, con delle fragole buonissime, profumate. Abbiamo fatto questa torta al cioccolato fantastica. Perfetta per illudere quelle persone che detestano il cibo sano e allo stesso tempo accontentare invece chi ama la farina integrale, zucchero di canno e tutte quelle cose un pochino più salutari. E poi abbiamo preparato questo pambrioche, ragazzi, guardate che morbidezza. Nel frattempo ci vediamo su Instagram per una parte di intrattenimento ovviamente combinata alle ricette. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti per rimanere sempre aggiornati sui contenuti e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti. Diciamo che attivando la campanella sarete più aggiornati rispetto a non attivarla ovviamente. E poi invece sotto c'è il link, c'è il collegamento insomma per il blog e vedere la ricetta scritta, le ricette scritte. Mangiamo cioccolato. Fa bene all'umore. E mi raccomando teniamo duro. Grazie come sempre per essere stati qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.